Ciao a tutti, oggi prepareremo le coppette di yogurt e pomodoro. Il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti più il tempo di riposo in frigo. Gli ingredienti sono yogurt greco, salsa di pomodoro, concentrato di pomodoro, colla di pesce ammollata in acqua fredda, olio evo, aglio, sale, pepe, basilico e origano. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'olio e l'aglio ed azionare il bimbi per 4 minuti, 120 gradi, velocità 1. Togliere l'aglio dal boccale. Aggiungere il concentrato di pomodoro, la salsa di pomodoro, il pepe e il sale. Ed azionare il bimbi per 8 minuti, 100 gradi, velocità 1. Aggiungere la colla di pesce ben strizzata ed azionare il bimbi per 2 minuti a velocità 5. mettere da parte in una ciotola, lavare e asciugare bene il boccale. Abbiamo lavato e asciugato bene il boccale. Adesso mettere lo yogurt, il basilico, il sale, il pepe e l'olio. ed azionare il bimbi per 1 minuto e 30 secondi a velocità 3. trasferire il composto in coppette monoporzioni riempiendoli per due terzi. mettere su tutta la superficie delle coppette uno strato di pomodoro. riporre le coppette in frigo per almeno un'ora e successivamente spolverizzarle con l'origano secco. coppette di yogurt e pomodoro. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!